Sono arrivati di notte con un veloce gommone di 10 metri dotato di due potenti motori fuoribordo Yamaha da oltre 200 cavalli. Hanno presumibilmente attraversato di notte l'Adriatico provenienti dalle coste della ex Jugoslavia e una volta sbarcati alla foccia del fiume Metauro si sono messi a scaricare sulla spiaggia affanese un quantitativo di diverse tonnellate di droga. Sono indiversi, sanno esattamente cosa fare, movimenti veloci e coordinati in silenzio ed al buio, forse un appuntamento concordato con qualche corriere. Ad aspettarli però gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti unitamente ai colleghi della Mobile di Pesero ed Ancona. Appena accortisi della presenza degli agenti, 4, forse 6 uomini sbarcati dal natante hanno tentato con l'aiuto del buio di sfuggire alla cattura, ma sono stati braccati ed arrestati dai numerosi agenti presenti sul posto per questa brillante operazione antidroga. Ora gli albanesi, sottoposti all'arresto, si trovano nel carcere di Villa Fastigi. Tutti i particolari di questa operazione saranno presto divulgati dalla Polizia in una prossima conferenza stampa.